E' vero che Montepaschi è il terzo gruppo bancario italiano e quindi ha delle dinamiche, delle logiche molto diverse da quelle di banca etruria, ma i cittadini sono gli stessi, i risparmiatori sono gli stessi e quindi perlomeno nei riguardi delle obbligazioni ciò che viene fatto oggi poteva essere fatto allora e il recupero deve essere integrale come sarà di quindi non sono contento di quello che è stato firmato ma non per i senesi, loro hanno fatto bene, sono nel cuore, sono cittadini come noi, ma proprio per questo anche gli aretini avrebbero dovuto avere un trattamento diverso. Così il primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito al salvataggio del Montepaschi di Siena con il cosiddetto decreto salva risparmio che consentirà di evitare la risoluzione della banca con il Belin attraverso una ricapitalizzazione precauzionale pubblica ed un meccanismo in due fasi per tutelare gli obbligazionisti retail. Inevitabile ripensare ad un anno fa quando il risparmiatore di banche Trudia, Carichietti, Banca Marche e Cari Ferrara in conseguenza al decreto salva banche e videra alzerarsi tutti i loro risparmi. A un anno di distanza stesso Presidente della Repubblica, stesso Ministro del Tesoro, anzi dell'economia come si dice oggi, un Presidente del Consiglio in perfetta continuità politica, Gentiloni con il Primo Ministro Renzi di allora, due provvedimenti diametrali. Allora ci fu il cosiddetto decreto salva banche che di fatto non salvò alcuno ma mise nella più cupa disperazione gli obbligazionisti subordinati di quattro banche, tra cui Banca Etruria, la banca del territorio retino. A un anno di distanza un provvedimento di tutt'altro segno, 20 miliardi messe a disposizione per salvare il Monte dei Paschi dopo il fallimento dell'aumento di capitale da 5 milioni dei giorni passati e soprattutto con la clausola della riconversione delle obbligazioni subordinate in azioni ordinarie e quindi per salvarne interamente, integralmente il valore. Ora, nulla a questo, bene per i senesi, non me la sento di dire che non doveva essere fatto, però allora si sarebbe dovuto fare anche un anno fa. Cos'è questo doppio peso, questa doppia misura, questo doppio passo per Arezzo e per Siena? Non è bello. Questo sta a significare come nelle politiche di governo, di supporto o non supporto di una realtà bancaria, si possa fare la fortuna o la sfortuna di un territorio e di una città.